Stiamo andando verso una zona bianca. Si fa progressivamente sempre più nitida la luce in fondo al tunnel della quarta ondata. Quel miglioramento emerso a livello nazionale lo si ritrova anche in Veneto, che conta oggi 2858 nuovi positivi in 24 ore, 1711 pazienti in area non critica e 160 in terapia intensiva. Di questi però gli attualmente positivi sono 125. Tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato. Sarebbe però sbagliato abbassare proprio ora la guardia e soprattutto è importante continuare con le vaccinazioni, soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70, gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Intanto da oggi nuove regole, a partire dalla gestione delle quarantene a scuola e Green Pass illimitato per chi ha la terza dose o è guarito dopo essersi vaccinato. Dall'11 febbraio decade poi l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla salute, Costa, infatti ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero per togliere i dispositivi di protezione all'aperto in tutte le regioni senza distinzione di colore. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Questa è l'etappe principale di un percorso che porterà al 31 marzo quando scadrà lo stato d'emergenza, salvo il governo non decida di prorogarlo ulteriormente.